Sono state dichiarate prescritte le accuse sul depistaggio nelle indagini per la strage di Via D'Amelio contestate ai poliziotti Mario Boe e Fabrizio Mattei, mentre il Tribunale di Caltanissetta ha assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. L'accusa era quella di calunnia aggravata dal fatto di avere favorito Cosa Nostra, ma i giudici del Tribunale hanno escluso l'aggravante e quindi si sono ridotti i tempi della prescrizione. In sostanza, per i giudici del Tribunale, Boe e Mattei avrebbero effettivamente avuto un ruolo nel depistaggio, ma senza l'intenzione di favorire la mafia. Secondo l'accusa, gli imputati, i componenti del gruppo che indagava sulla strage di Via D'Amelio all'indomani dell'attentato del 19 luglio 92, avevano imbeccato i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotto e Calogero Pulci, costringendoli ad accusare alcune persone estranee all'attentato dinamitardo del 19 luglio 92, in cui vennero uccisi l'allora procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Walter Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina. Il Tribunale ha inoltre trasmesso gli atti in procura per il falso pentito Vincenzo Scarantino, per valutare se vi siano gli estremi per contestargli l'accusa di calunnia. Trasmessi in procura anche gli atti per i poliziotti Maurizio Zerilli, Angelo Tedesco, Vincenzo Maniscaldi e Giuseppe Di Gangi, ascoltati nel corso del processo.